Allora, come si conduce? Ma chi lavora a questa foto? No, siete troppo belli. Mettiti il profilo e assomiglia ancora di più. Ecco Dante, ritorna. Muginio dov'è? Muginio è un pezzo, è il direttore. Come va? Sei riuscito a portare qualcuno con te nell'inferno? No, deciso. La mummia è spettata. Siete tutti bellissimi. Siete tutti bellissimi. No, ma non correnza al direttore. No, ma non correnza al direttore.